Oggi cercheremo di andare a fondo nella vita e nella personalità di una vera superstar in vetta ormai da diversi decenni, è con noi, guardate il filmato Apriamo la ruota e facciamo entrare Sabrina Salerno Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti, che bello! E' bellissimo averti qua a ruota libera Sono contenta anch'io, ci tenevo ad esserci Grazie, come stai? Bene, bene Ti vedo in gran forma, sempre bellissima Si fa quel che si può Con un po' di fatica, perché è un po' sì, un po' tanta, ma è giusto che sia così D'altronde è un po' diventata quasi una sfida, no? Cercare di essere sempre performanti, stare bene Per esempio sei una grande lavoratrice, chiariamolo subito questo Molto meticolosa anche Molto, sì, sì A limiti della maniacalità, ahimè E questo a volte è un pregio, ma è anche un difetto Però, che ci posso fare? Sono così Però questo magari è anche il segreto, per rimanere così Certo, certo Per essere sempre performanti e per dare il meglio di se stessi È vero Come giusto che sia, davvero Allora Che rapporto hai tu con la ragazzina che ha lanciato Boys? Che rapporto hai con lei? Di tenerezza Sì Perché Di tenerezza e di ammirazione, posso dirti Perché credo di essere stata una donna coraggiosa Sono partita così, all'improvviso, dal niente, senza arte ne parte Senza avere l'obiettivo, l'idea precisa di Mi hanno dato tutto un po' di fortuna Però la fortuna te la devi anche cercare Fortuna e determinazione Certamente All'inizio sono stata molto fortunata Ma poi sono riuscita a tenermi questa fortuna E tramite la determinazione E una certa Una forza interiore Perché tu lo sai Questo è un ambiente, un mestiere Dove devi essere forte Forte, strutturato E io all'inizio a 17 anni non ero strutturata Avevo la vita che era sopra e sotto Cioè era un po' un up and down Però mi sono veramente un po' di fortuna Ho avuto anche persone che mi hanno fatto molto male Ma nonostante questo Ho sempre ricercato la luce La ragionevolezza E sapevo che tramite l'impegno La determinazione avrei potuto ottenere dei risultati Allora ti rivediamo Ti godiamo in tutta la tua innocenza Ma anche in tutta la forza di quegli anni In Boys I'm looking for a good time Boys, boys, boys Get ready for my love Boys, boys, boys I'm looking for a good time Boys, boys, boys I'm ready for your love Pensa Ho avuto un flash Top of the Pops era uno dei programmi più importanti della musica inglese E mi ricordo che arrivai in ritardo di 5 minuti Ma non per colpa mia Perché io sono In questa una mia maniacale Sono la precisione Sono un orologio svizzero Detesto far aspettare le persone anche di un minuto Quindi io normalmente spacco proprio il minuto È una mia forma di maniacale Cioè non tanto normale a dire il vero Però mi ricordo che il produttore di questo programma Mi fece una scenata per 5 minuti Perché io all'epoca ero numero uno in classifica Quindi tu dici uno se lo poteva anche permettere 5 minuti Ma fui sgridata Come una bambina Come ti sei sentita? Eh no, che c'aveva ragione Perché io poi essendo Ma la colpa era della casa discografica Non era neanche stata mia Quindi Mi è rimasta impressa questa cosa Già ero di mio precisina così Però questa cosa qua mi ha Ti ha un po' assegnato Sì, no, mi ha Favorevolmente Certo, certo, lo capisco Perché ti ha dato una disciplina È una questione di rispetto Non fare aspettare le persone Ecco, per dire Cambiamo argomento Perché qui mi tocchi sul vivo Io invece sono proprio un disastro Con l'orologio e con la puntualità Eh, lo so Ma non sono io È il carattere anche Io sono maniata Io sono Spacco Mi viene l'ansia Mi viene l'ansia Pensa in aeroporto Vado un'ora prima Il treno Tutto prima Tutto prima Un'ora prima Devo fare tutto con calma Perché sennò vado in ansia Senti, di quel video A me rispetto a quanto hai detto poco fa Tutta quella luce Tutta quell'energia E anche una certa forma di purezza Arriva tutta Però mi hai anche detto Cioè, in quel momento Ho incontrato anche chi sapeva farmi del male Perché chiaramente se ne sapeva approfittare Quindi a noi arriva magari Il lato luminoso Di quel tipo di musica E di divertimento Quali erano le ombre? Ma le ombre erano Quelle di una ragazza Molto giovane Che si ritrova a fare un mestiere Senza poi realmente volerlo fare Perché a me è stata tutta una serie di coincidenze Di cose che mi hanno portato A fare il provino Ad andare poi Da Claudio Cecchetto Chiede lì Dai producimi Fammi un disco E quindi facilmente appetibili Per quel tipo di persone Che è Bambina mia Farò di te Una grande star Purtroppo io sono incappata In questo tipo di persone Ero abbastanza sola Però sono riuscita A liberarmi Negli sette anni La giustizia italiana È stata un po' lenta C'è molta burocrazia Devo dire che nel mondo dello spettacolo Purtroppo le leggi Sono un po' obsolete Non sono molto chiare Ma tu ti sei mai sentita vittima? Anche da Per come veniva raccontata La vicenda Parlani tu No no Allora ti spiego Io ho avuto a fianco Questa persona Che ha creduto molto a me Al quale devo comunque Dire grazie Perché sai È facile Scutare nel piatto Dove si ha mangiato Ma è stata comunque Anche merito di questa persona In parte se Probabilmente Se sono arrivata Ad essere famose Perché comunque Siamo andati insieme Da Claudio Cecchetto Ma E con Claudio Abbiamo fatto un percorso Di un album Che ha venduto milioni di dischi Quindi Però questa persona Cos'è? Voler manipolare Una persona Renderla incapace Di intendere di volere Questo era uno Delle sue fobie Era un genio del male E questo capita tantissimo Ciao a tutti Grazie a tutti Sono una mia